Simon Gauthier sarebbe morto in seguito ad uno shock emorragico per la rottura dell'arteria femorale. È emerso dall'autopusia sul corpo del turista francese, seguita nella giornata di ieri nell'ospedale di Sapri. Sono state riscontrate fratture esposte e composte ad entrambi gli arti inferiori ed il laceramento di tessuti. L'emorragia avrebbe avuto origine dalla gamba sinistra che presentava rotture dei principali vasi. Gauthier, dal momento della caduta, sarebbe rimasto in vita al massimo per 45 minuti. La Sorbona ricorda il suo studente Simon Gauthier, sottolineando che si trattava di un ragazzo brillante e disponibile. Per il relatore della sua tesi, lo studente, morto in Italia durante un'escursione, era una persona molto coraggiosa. La Sorbona ricorda inoltre che Simon era dottorando in storia dell'arte e dell'archeologia presso il centro André Castel e che stava lavorando da cinque anni e una tesi sugli scotti del Ducato di Parma e Piacenza alla Spagna di Elisabetta Farnese. Portava avanti le sue ricerche, ricorda la Sorbona, fra la Spagna e l'Italia e doveva consegnare la tesi alla fine dell'estate. Era un dottorando molto apprezzato dai suoi docenti e compagni di laboratorio di ricerca, ricorda la storica istituzione francese. Tutti i membri della comunità universitaria manterranno il ricordo di un giovane brillante, coraggioso di grande gentilezza e profonda disponibilità.